salve a tutti ragazzi ancora una volta bentornati sul canale di leontrip e bentornati su state of decay problemi di morale suggerimenti costruisci un'area medica area medica ma potremmo fare qua allestisci area medica ma con materiali vi attaccate addio ok allora sappiamo che noi dobbiamo andare la legge la legge no noi dobbiamo andare qua soldato solitario incontro il saggente tan giusto andiamo a incontrare il saggente tan sempre se mi ricordo dove ho parcheggiato la macchina avevamo questo scassone prendiamocelo addio non gira neanche non va sta auto comunque vabbè non va non funge vediamo la cartina nel frattempo dobbiamo girare a destra dobbiamo girare scusate mi stacca amaro ci ma metti in moto però ok allora possiamo girare da qua andremo ad un altro marchio per fare i bigliettini va bene e poi giriamo da qua ok il saggente dovrebbe essere ai che casino c'è qua ragazzi il saggente dovrebbe essere qua poi giriamo a sinistra ok quello lì deve essere il mio pick up che ho abbandonato lì andiamo a vedere da sto sergente perché dovrebbe essere mamma mia fino in fondo bene oh c'è un taxi là quasi quasi quel taxi mi ispirava qua c'è un'altra auto di quelle buone questo qua lo devo ammazzare assolutamente a tutti i costi il problema è prenderlo vedete che scappano come se non ci fosse un domani eh no questi non sono facili da stendere va bene mi ha distrutto l'auto in due secondi netti me ne vado allora caro mio saggente tan stiamo arrivando guardate qua cioè me ha distrutto completamente la macchina in quanto? due legnate? stiamoci sto sergente faccio l'azombaccio faccio l'auto della pula ok siamo quasi arrivati ragazzi dovrebbe essere sì di qua sergente sono arrivato dove sei? qua dentro ah non è non sta molto bene devo andarmene da qui non posso restare non lasciate indietro non lasciate indietro tutti i malati che sia per questo che continuano a ripetere di non bere l'acqua randolo di morte? cosa fa randolo di morte? ok randolo di morte e finalmente è fottuto ok ti conviene andare lascia la casa ascolta prima di lasciarla a casa io cercherei qua velocità magari abbiamo degli spuntini va bene qua cosa c'è scusate non c'è molto in questa casa però quando cacchio ci torniamo raga un messaggio usa questo appena voluto un foglio di carta squarciato quindi adesso ah dovevamo solo andare qua e basta che palle ah no ok ho ripensato un discorso sull'acqua con il nostro amico subito dovremmo mi sbattere su fuori ce ne vedremo in parlando di qualcosa che ne ho trovato sulla cisterna ora penso che dovremmo dare un'occhiata ci sono allora andiamo alla cisterna dove sta la cisterna scusate ah qua dirigi ti verso la cisterna si ma vieni sulla camaro perché oh ma dove cazzo siamo dicevo vieni sulla camaro perché ce n'è un po' lontanuccia ciccione l'auto è già distrutta mi tiriamo di qua ok dobbiamo girare anche di qua dai 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 che ce la fai vediamo di controllare cosa c'è qua e tuoi persone sembra di essere i tuoi con i tuoi con i tuoi tu sai quando abbiamo prima di installato il camp il capitano ha designato questo è il nostro R&R eh non potremmo venire qui a farci un giro fare finta di dire che non sarò perfetti per farci un barbecue ah è un'area medica questa eh non è la stessa merda vabbè mina piccola momento che c'è una mina la e ci sono anche varie munizioni da prendere quindi io direi di prendercele ragazzi sono sicuro che i cadaveri marciscono nelle nostre riserve d'acqua sono capitolo pessime notizie infatti ci sono dei caderni non c'è solo un po' se non hai supporto il pass è tornato verso i pari è un paio di piste che posso andare Allora, il frattempo dovresti iniziare a cercare delle provviste. Non so come le cose saranno, ma dubito che sono i rosa fiori. Va bene. E dove cazzo mi hai portato? Io stavo facendo... Eh, si stancherà adesso. Vabbè. Ci ha portato in culo al mondo sto qua. Ma metti giù sta roba. Ok, si stanca un po' meno ora. Quindi prendiamoci anche questa. No, sono troppo pieno, mamma mia. Mangiati qualcosa per favore. Questo tipo. Ok. Quanti cacchio ce l'ho di ste roba da mangiare? Magno ancora? Non ora. Ah, bene, perfetto. Quindi l'ho mangiato veramente il cazzo. Bene. Metti giù queste. Tre. E mi prendo le mine, ragazzi, perché potrebbero essere utili davanti a casa. Ok. Questa la posso anche lasciare lì. Molto bene. Avanti. Quindi adesso cosa possiamo fare? A parte di portare a casa le provviste. Cosa c'è qua? Addestramento. La legge. Andiamo a fare la legge, perché a sto punto. Allora. No Allora mettiamo giù un po' di cose ragazzi Proviamo a andare a fare quella missione Ah no ce l'ho già equipaggiata Mettiamo giù le mine Mettiamo giù queste No sono troppa roba che sto mettendo giù No però mi serve quello della stamina anche Fucile MDR No quello che ho è OP OP Doppietta Non avevamo tipo un lancio granate Si Lancio granate poi ci pensiamo ragazzi Mi sarebbe piaciuto portarmi dietro qualche spuntino così Perché mi servono per la stamina Va bene Quindi tre cure Ci siamo E adesso andiamo di là Dai porca amice Porca amice sto guardando la cartilla Scusate ragazzi Ora non la stavo guardando ma Sono andato a sbattere comunque Quindi non ci sono scuse Faccio schifo a guidare Almeno col controller Quindi La legge Ah ma la legge è fiducia e basta E vabbè io che cacchio devo fare ora Non tirano piecanti Perchettere il provvigionamento Sti cazzi Beh facciamoci un giro qua dentro Magari nel frattempo Non sia mai che Ci sia qualcosa che mi sia lasciato scappare Tanto lui salve Questa è una bella cosa Scusate vi posso fregare qualcosa Non avete un cazzo Non avete Salve Salve Ma qua però dei militari ci sono in giro Questo qua sta mangiando Cosa sta mangiando Che ha chiesto roba Ah va bene Me l'hai sparisciuta davanti Ciao Sì Questo sta leggendo il libro Ma fanno un cazzo di niente Guarda c'è nessuno sta facendo niente ragazzi Vedete Stanno qua Uno legge il libro L'altro mangia L'altra sta là a guardare il panorama Guardate qua C'è gli unici carrettini Che facciamo qualcosa Siamo noi Bello sto gioco Mi piace Guarda 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 Cosa stai guardando Cos'è Cosa c'è Perché stai fermo all'impalata C'è la città sfascio Buh Guarda Guarda questo Questa magna Salute Questa magna Salute Questo Questo Sta a leggere Poi oh no Come I zombie Aiuto Perché Per forza Fate un cazzo Fate Ok Quindi vediamo di andare dentro questa casa qua Diciamo il taxi E vediamo Ah qua ci sono delle munizioni Allora andiamo dentro questa casa Facciamo un po' di casino Per carità Andiamo di trovare qualcosa almeno Qua c'è una palestra in casa No com'è che si aprirò la porta Così Ok Lei era il padrone di casa Scusi Ricerca in corso Abbiamo trovato un silenziatore inutile Mi serve proprio dei materiali Ragazzi Medicinali Non servevano niente medicinali Qua nel frigo ci sarà il cibo Vuoi che si trovi dei materiali nel frigo No Non credo Infatti c'è da cibo Vabbè carichiamoci il cibo nel frattempo Porto dietro anche un caffè che non si sa mai Materiali Dovremmo cercare Tipo una casa in costruzione O un magazzino O qualcosa del genere Ed è finito di rompere i coglioni No Al fatto pare no Ok Ok Allora Tu non sei morto Incredibile Tipo un magazzino mi servirebbe Cos'è questo? Fire department Questa è tipo una caserma dei vigili del fuoco Volete che non ci siano dei materiali dentro No ma servirebbe tipo una casa in costruzione O qualcosa del genere Tipo questa forse potrebbe essere Vediamo No è un negozio ragazzi Poi tra l'altro l'ho già controllato Questo Esatto Proprio questo mi serviva Qua ci sono sicuramente dei materiali Qua è tutto rotto Vediamo Ok No c'è della benza Ho trovato uno scondiglio di benzina Qua cosa c'è? C'è dei materiali? Sì Dovrei allestire quella cacchio di aria medica Però No è vuoto Bene Andiamo via Andiamocene Dove posso cercare? Ma qua non c'è più niente Scusate Perché non mi dà Aria completata? Ma Vabbè Non me l'ho da Aria completata Volevo vedere anche dall'altro lato Se c'è qualcosa di interessante qua Qua non c'è niente Qua non c'è niente Qua dice però che ci sono delle risorse Ma forse sono sopra Sì forse sono al piano sopra O dall'altra parte Vabbè Comunque Niente ragazzi Adesso io vado a casa E vi do appuntamento al prossimo gameplay Sempre di sito TK Sto cercando di fare Il più velocemente possibile Le missioni principali Per cercare di finire Sto cavolo di gioco Però a quanto pare È una cosa lunga qua Cioè la tirano Allungano il brodo Non so Se avete Capito cosa intendo Vai vai Qua non c'è niente Ok Quindi ragazzi Vi do l'appuntamento Al prossimo video gameplay Di State of TK Fatemi sapere Sempre la vostra Mi raccomando E Lasciate un like Al video Detto questo ragazzi Ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti